Siamo sempre qui in Piazza Carignano con Simena Bombieri di ATTAC e del Comitato Acqua Pubblica. Decreto di DL concorrenza, voi avete già fatto un'assemblea al campus universitario riguardo all'acqua pubblica, siete contro questo DL concorrenza? Siamo assolutamente contro questo disegno di legge perché impone tutta una serie di vincoli per i comuni e di fatto impedisce ai comuni i compiti di governo e di controllo sui servizi pubblici locali, arrivando addirittura a dire che i comuni che non vorranno ricorrere al mercato e vorranno continuare a derogare loro un servizio pubblico, dovranno giustificare il mancato ricorso al mercato. Grazie.